Buongiorno ragazzi, buongiorno, questa è la città vecchia, allora eccomi qua di nuovo e sono quasi per arrivare poi fra l'altro qua stiamo vicino al Parlamento, c'è il Castello del Re e tutte queste cazzate, il tipo suonano con i bicchieri guarda che bel suono che fanno qua ragazzi, questa è la mia postazione, questo cagnolino qua, di solito qua mi metto io ecco fatto, siamo arrivati, faccio una panoramica, là sopra c'è il Castello del Re, là c'è il Parlamento, qua c'è uno che c'è scherzo eccetera va bene, ok, saluto, ci sentiamo a dopo, vi aggiorno ciao a tutti ragazzi, mi sono posizionato, come vedete, faccio anche i video, infatti anche ieri, questa è la postazione e vediamo, come li metto a lavorare, questa è l'esposizione ci sono qui qualche quadro, che avete visto, già nei video, nei tutorial che avevo fatti e niente, questo c'è il passaggio di gente qui c'è stato di gente, vedete, quindi oggi è stata domenica, pomeriggio, vediamo che succede e niente, vi saluto grazie a tutti 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 grazie a tutti